Sono Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute della nostra Regione. Sono qui per chiederti un aiuto per un tema che mi sta molto a cuore e che è di vitale importanza per tutti, la donazione del sangue. Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con un piccolo gesto puoi salvare una vita. Oggi più che mai, ricordati di donare. Grazie a tutti.